Come pensi tu, scusa Vittorio, del tema Salvini e anche della reazione di ieri a Delega Fiscale? Come la vedi? Se la vedi come un nervosismo politico post-elettorale o invece come un gesto, come dice Maria Giovanna, di rimente? Da questo momento in poi il governo non avrà vita facile. Sento feltri, poi sento politico e poi torno naturalmente anche a boccia. Io premetto che sono assolutamente d'accordo con Salvini per quanto riguarda i concetti che ha espresso. Ha perfettamente ragione. Sul tono invece sono un po' del tuo parere. È chiaro che Salvini dopo anche il risultato elettorale è un po' irritato, ma questo va compreso. Però le cose che ha detto sono condivisibilissime. Tu non puoi decidere in 5 minuti la politica del governo e fatela imporre da un signore che si è anche rifiutato di discutere nel merito della questione. E quindi Salvini secondo me ha fatto un discorso lineare, naturalmente. Peccato che abbia usato dei toni un po' che rivelano nervosismo, ma per il resto io non riesco a dargli torto neanche in una virgola. Ok, sento politico.